Non ce l'ha fatta a parlare. Dopo aver ascoltato in tribunale a Padova le testimonianze della mattinata, Diletta Miatello, l'ex agente della Polizia Municipale di Asolo, accusata dell'omicidio dei genitori, è stata accolta da un malore ed è stata riportata nel carcere di Montorio a Verona. Aggiornato all'11 settembre il processo, che vede la donna imputata con l'accusa di aver ucciso la mamma, Mariangela Sarto, 84 anni, e il padre, Giorgio Miatello, 89, in questa villetta di San Martino di Lupari nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2022. La madre è stata trovata senza vita, il padre si è spento dopo due mesi di agonia il 28 febbraio 2023. Un massacro, quello che si era consumato all'interno della casa dove Diletta era tornata a vivere. La mamma uccisa con 24 colpi in testa, il padre colpito al capo e al braccio. Una storia difficile è quella di Diletta e della sorella, che a inizio marzo in aula ha testimoniato come il padre le avesse picchiate fin dall'infanzia. Diletta a Miatello, seguita dal CSM di Cittadella, si era rivolta alle cure del pronto soccorso anche l'anno precedente alla strage, presentandosi con un occhio nero e una ferita in testa, forse frutto di violenza. Durante l'udienza il giudice Mariella Fino ha incaricato lo psichiatra goriziano Alessandro Saullo, che dovrà valutare la capacità di Diletta a Miatello di intendere e di volere.